Storica svolta negli rapporti tra gli Stati Uniti e la Cuba, mediazione della Chiesa. Lei come prende questa decisione degli Stati Uniti di aprirsi, di togliere l'embargo? Ma finalmente! Sono anni, decenni che aspettavamo che cadesse quest'altro muro, il muro tra gli Stati Uniti d'America e Cuba. E che ci fosse da entrambe le parti la voglia e il dialogo di riallacciare il filo dell'amicizia, della comprensione, della conoscenza reciproca. Credo che per Barack Obama e per Raul Castro sia oggi la scelta più bella possibile, quella che fanno voltando pagina e mettendo fine a un embargo che ha soffocato Cuba e che ha forse rallentato il processo anche di rinnovamento della vita politica e sociale nella realtà cubana. E ha costituito per gli Stati Uniti d'America un'ipoteca tutta fatta dalla destra americana e da una parte della destra cubana.